Un innesto per ciascun reparto per completare la rosa della lucchese a disposizione di Giorgio Gorgone in vista del campionato 23-24 che inizierà fra un mese circa, probabilmente slittando al 3 o al 10 settembre. Stiamo parlando di un difensore centrale dopo il passaggio di Bacchini e la Juve Stabia degli ex Pagliuca e Tarantino, di un centrocampista e di un attaccante, magari fiore all'occhiello, del mercato rosso-nero. Intanto, terminato il ritiro del ciocco, la squadra si allena nelle giornate di giovedì e venerdì allo Stadio Ibu di San Giuliano Terme, a due passi dall'albergo che una delle società del presidente Bulgarella ha conferito nel patrimonio della lucchese e che dovrà diventare la foresteria rosso-nera. Tornando al mercato e alla nuova lucchese, proviamo ad ipotizzare, ma è solo un'ipotesi, un 11 rosso-nero, fermo restando che il mercato è tutt'altro che chiuso. Eccolo con l'ausilio della grafica, coletta in porta, Quirini, Tiritiello, Benassai e De Maria in difesa, Tumbarello, Guccher e Gibril, Cerniera Mediana, Russo, Fedato e Ravasio in attacco. Non male, anche se va detto, che i tifosi della lucchese sperano in ulteriori robusti rinforzi. Intanto, venerdì alle 12, alla casa del Boia sulle mura, la società rosso-nera presenterà anche la campagna abbonamenti per la nuova imminente stagione.